Benvenuti in breaking news pugliesi nel mondo. In precedenza vi abbiamo già parlato di Franco Tammacco, emigrato molfettese sempre voglioso di voler condividere le sue memorie di Molfetta, così come delle sue tradizioni. Come lui ad Hoboken sono presenti tanti altri emigrati storici, che assieme ai più giovani ogni anno contribuiscono nell'arricchire il Hoboken Italian Festival. Fra questi abbiamo avuto il piacere di incontrare Antonio Albanese e Gennaro Cappelluti. Antonio Albanese in particolare ha realizzato un articolo per il giornale Free Press, Breaking News Pugliesi nel mondo, invitando nuovamente il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ad Hoboken. Ma adesso lasciamo a loro la parola. Sono Gennaro Cappelluti, sono un emigrante dal 1972. Quando sono partito dall'Italia ho messo nella mia valigia una figurina della Madonna dei Marti. Ho arrivato a Hoboken e ho trovato la società Madonna dei Marti. Mi sono iscritto là e dal 1972 ho partecipato a tutte le feste della festa della Madonna dei Marti. Ora stanno continuando i miei nipoti. Le mie figlie aspettano tanto di vedere la festa della Madonna dei Marti che ci raggiungiamo con altre famiglie che stanno fuori a Hoboken e ci salutiamo e ci rarreghiamo a vedere la festa della Madonna dei Marti. Quando ho avuto l'occasione sempre sono venuto a Bolfetta a vedere la nostra festa che è sempre nel mio cuore e ho tanto desiderio di portare i miei nipoti così la tradizione viene continuata finché si può. Quest'anno abbiamo ricevuto anche un grande regalo, il giornale che ci informa di tutte le cose nuove che avvengono in United States e anche a Molfetta. Noi con grande piacere lo accettiamo, lo leggiamo e rimane una grande soddisfazione avere anche questo regalo da Bolfetta. Voglio ringraziare Don Giuseppe che quest'anno non ci sei venuto, ci hai mancato assai specialmente durante la novena sempre tutti chiedevano dove è stato Don Giuseppe, dove è stato Don Giuseppe. Io ti saluto con tutto cuore e con questo giornale più ci ralleghiamo alle nostre tradizioni. Saluti a tutti da Gennaro Cappellutti. San Antonio Albarese è nato a Molfetta, ma risiede negli Stati Uniti da più di 50 anni. Oggi a Molfetta è una grandissima festa della Madonna dei Martri, l'8 settembre. Io ho la festa della Madonna dei Martri ci manca da un po' di anni, però vengo quasi sempre per la ritirata. Ma anche qua, il motivo perché vengo solo per la ritirata è perché qua in America, in Nabokkan, ci abbiamo la festa della Madonna dei Martri che ogni anno cresce ancora di più. Facciamo l'occasione per augurare buona festa a tutti a Molfetta, saluti tutti i frati del santuario e spero di rivederci presto. Auguri e buona festa! Continuateci a seguire! Ci vediamo nella prossima puntata di Breaking News Pugliesi nel mondo!